Scritto per scritto, lo riferebbe pure il tweet per Barbara D'Urso? Ma certo, ma perché no? Ma anche nel giorno in cui doveva fare il tweet sui rider schiavi? Ma guardi, la regione Lazio è l'unica regione italiana che ha approvato una legge regionale a tutela dei rider. Non esiste in Italia se non nella mia regione perché l'abbiamo promossa e approvata noi. Quindi io non devo su questo dare nessuna giustificazione. Quindi che mi dice, fatti non parole. Ma non c'è dubbio, è una delle tragedie italiane che viviamo o ci si illude di vivere, di parole e di polemiche. Ma chi ha fame, chi non ha lavoro, chi sta chiudendo l'impresa, chi fa il commerciante, chi deve riaprire il bar e il ristorante è saturo oramai di parole e polemiche. Vuole fatti e soluzioni e un orizzonte di vita. Per questo bisogna cambiare. Allora, orizzonte di vita, voglio arrivare ai vaccini. Io devo dirle che in questi ultimi mesi, nonostante lei mi abbia snobbato e non sia mai venuto, ho sempre detto, perché lo penso, perché parlo con le persone, ecco appunto, sono molto in mezzo a raggente tutti i giorni, che la regione Lazio ha fatto veramente un ottimo lavoro sui vaccini. Ho visitato degli hub meravigliosi, organizzati benissimo, lo Spallanzani è un gioiello. Insomma, onestamente le cose vanno bene. Ho tanti amici, persone che conosco, over 70 già vaccinati. Oggi Feltri ci ha detto che in Lombardia ha 77 anni, lui è presto perché sono gli 80. Mi spieghi però una cosa, perché oggi ho parlato di AstraZeneca tutto il giorno. Cosa comporta questo problema? Cioè voi siete in grado di vaccinare bene tanto, però se non arrivano le dosi, se AstraZeneca diventa un problema, come la mettiamo? Guardi, sono due problemi diversi. Noi abbiamo iniziato le prenotazioni per i 65 anni. Questo è figlio di una bella squadra che ha radici antiche questo lavoro. Noi siamo usciti dal commissariamento da alcuni mesi, abbiamo risanato la sanità, abbiamo fatto tante assunzioni e ora combattiamo uniti. C'è il problema della rete, che ormai funziona, e poi c'è il problema che sappiamo tutti qual è, quello dell'approvvigionamento industriale del prodotto, cioè del vaccino. Qua c'è un problema di sistema, per cui ci sono grandi paesi che hanno brevetti del proprio paese e produzioni industriali, che penso sia umano. Si stanno rivolgendo innanzitutto ai cittadini di questo paese. E poi c'è stato un problema enorme, evidentemente, nei contratti che sono stati fatti a livello europeo, che sta mettendo sotto stress il flusso di rifornimenti. Lei si crede alla promessa dei 500 mila al giorno? È a portata di mano? Questo dipende dalla serietà dei flussi di rifornimento che arrivano quotidianamente. In più, c'è stata questa vicenda di un vaccino, il quale peraltro sono cambiate totalmente il tipo di prescrizione. Io non giustifico nessuno, però il dovere, visto che dobbiamo salvare gli esseri umani, anche di darne un motivo di quanto sta succedendo, è anche vero che noi stiamo vaccinando centinaia di milioni di esseri umani con vaccini che hanno avuto un percorso di ricerca, di sperimentazione. Ed è tra i più corsi della storia della scienza. Quindi questo è importante dirlo proprio per evitare di fare solo problemi. Ma strazzeremo questi problemi anche perché costa meno degli altri, secondo lei. Me l'ha detto Galli, il professor Galli. Io questo non lo so e non è compito mio dare questo tipo di giudizi. Il mio compito è dire che bisogna correre e sono contento che noi abbiamo fatto una scelta chiara. Anche qui è utile, io seguo la trasmissione, voi l'avete detto molto spesso e avete fatto bene. molti rischiano di prendere il Covid ma solo alcuni hanno un'alta percentuale di morire e quindi la campagna di vaccinazione deve essere soprattutto su anziani e persone fragili. poi noi abbiamo fatto la scelta. Mentre la vita è al sicuro prima. e poi noi abbiamo fatto